eri fiusi asmr ciao a tutti amici fiusini come state? spero tutto bene oggi andremo a fare un bel video bellicola 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 un po' relax a tutti ciao a tutti adesso l'androme deve sopra il microfono questa è una cosa così Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.